Salve a tutti, in questo nuovo video andremo a installare un tema dinamico, in questo caso quello di Nyan Nyan Cat, sulla nostra Playstation 3. Questo tema è installabile su tutte le Playstation 3 con qualsiasi firmware. Ovviamente che il firmware permetta l'installazione del tema personalizzato. Il download è qui sotto in descrizione, è da Megafire se non sbaglio e ora vi mostrerò come installarlo. Allora, inserite la vostra USB nel computer e create una cartella di nome PS3. All'interno di questa ne create un'altra chiamata TEM, scritto THM, teme. E una volta fatto questo andiamo in impostazioni dei temi, tema e andiamo in alto su installa, premiamo X. Dispositivo USB, Nyan Nyan Cat, TEM by Satya, premiamo X. Poi andiamo su di nuovo tema e lo troveremo qui. E' un tema dinamico e ora lo andremo a applicare. Diciamo applica. Benissimo. Il tema è installato. Come vedete è dinamico perché, ecco mi metto qui così, vedete gli effetti sotto. Se vi va aggiungetemi al PlayStation Network, mi chiamo Bicchiere, come vedete mi aggiungete e sarò felice di accettarvi per giocare insieme su PlayStation Network. Ok, per questo video è tutto. Ciao e alla prossima. Ciao.